Diciamo che questo è un discorso più, forse volevo chiedere più forse a Irene, a parte anche Loretana sta per laureare in sociologia adesso, cioè perché già laurea, sapete la seconda laurea in sociologia tra l'altro, non lo dice Loretana, non lo vuole mai dire. Quanto influisce invece questo tipo di, sul prete, quello che è la mancanza di effettività, quanto può influire poi a livello della sua conduzione diciamo proprio biologica, della sua vita in l'iter biologico? Cioè dici quanto della cassità del prete poi influisca sulla sua psiche ma anche nel, in qualche modo, diciamo che il prete anche se poi pensa a determinate cose, in qualche modo deve per forza di cose ostentare dei tabù, ecco, quei tabù sono quelle barriere, sono quasi imposte, quelle barriere mentali, mentre la persona... Eh ma c'è quello che ci crede fermamente alla castità e non ha dei problemi e per lui non sono... Mentre c'è quello che... Perdona Irene, io non riesco a credere al prete che ci crede fermamente all'università del prete... Ma scusa, non si fa qualcosa molto antica... Ci sono delle situazioni o delle realtà dove dei sacerdoti si sono anche sposati e si sono allontanati dalla chiesa, ovviamente sono stati mandati via e addirittura Lutero aveva detto appunto che i sacerdoti si dovevano sposare e aveva ragione, nel senso che per poter aiutare gli altri devi vivere... Certo, certo... E' altrettanto importante... Come puoi capire gli altri se non hai fatto l'esperienza... Come puoi capire dei figli se non hai avuto dei figli? Come puoi capire dei rapporti anche affettivi importanti o dei dolori se questi dolori o questi rapporti affettivi non li hai vissuti? E' molto difficile questo... Certo... Quindi credo che sia molto complicato anche per loro... Infatti vedi quello che succede insomma... Io so che negli Stati Uniti per esempio hanno incriminato moltissimi sacerdoti di pedofilia... Ma perché? Perché succede questo? Allora domandiamocelo un attimo... C'è anche una cosa però che se il sacerdote viene scoperto pedofilo ovviamente fa più notizia della persona comune... No, sicuramente... Perché chiaramente magari se il sacerdote si continua a pensare a quella cosa che fa più notizia... E' come se c'è il poliziotto che fa una rapina chiaramente fa più notizia del rapinatore... Sì ma non è solo la pedofilia e l'omosessualità che è stata dichiarata finalmente dopo tanto tempo dall'OMS non una malattia... Mamma mia veramente... Prima veniva considerata una malattia... Quindi pensate un po' la ristrettezza poi... Perché? Perché la scienza diceva non lo è... Ma poi se secondo la Chiesa... La Chiesa ha sempre cercato di nascondere certe realtà... Voi alcuni l'hanno fatto in buona fede... Voi molti l'hanno fatto in mala fede... Proprio per tenere... Più ignoranti sono loro diceva Francesco I Borbone, Redinacoli... Certo... E più potere ho io... Quindi se io tengo la gente in un certo modo... Nell'ignoranza... Nell'ignoranza... È stato sempre usato, certo... È stato sempre usato... Ma ancora cerca di usarlo la Chiesa? La Chiesa cerca di usarlo... Anche se poi ti dirò... Ci sono delle persone all'interno della Chiesa che invece non sono tutti così... Voglio dire... Ci sono delle persone che sono estremamente in gamba... Che effettivamente... Ci mancherebbe... I famosi missionari... Non ci mancherebbe altro, certo... Perché non tutti sono in un certo modo... La maggior parte sì però... Perché sono costretti a dover accettare un po'... Dico io perché... Si devono difendere... Perché sono persone estremamente sicure... Sono persone estremamente problematiche... Sono persone che si nascondono... Dietro la veste... Ti interrompo un secondo... Irene... Un secondo... Pochi secondi di pubblicità... E poi ritorniamo immediatamente in studio... Radio Roma... Al centro della musica... Ed eccoci nuovamente in studio... Stiamo parlando... Abbiamo interrotto proprio per lo stacco pubblicitario... Ma ritorniamo a parlare di... Porno Romantica... Il libro appunto di Carolina Cutolo... Edito da Fazzi Editore appunto... Che sta... La settimana scorsa appunto... Diceva Carolina... Era nelle classifiche... Al settimo posto classifica di vendita... Ritorniamo a parlare dei tabù... Parliamo di... In questo momento di Preiti mi sembra... Di castità... Se posso aggiungere una cosa... In realtà poi la questione è molto antica... Della castità o del digiuno come forme poi di... Che favoriscono il percorso ascetico... La concentrazione e cose di questo genere... Cioè non c'è in realtà niente di male... Quando si tratta di una scelta... Io la questione che aggiungerei poi insomma... Dal mio piccolo sicuramente è che... Se per esempio la castità fosse facoltativa... E che quindi chi occupa un certo tipo di ruolo... All'interno della gerarchia ecclesiastica... Per cui per il tipo di percorso che fa... La castità o il digiuno o altre forme... Di rinuncia... Possono favorire un percorso appunto spirituale... Perché no... Chiaramente sono d'accordo al 100% con Irene... Che nel momento in cui tu ascolti... Come confessore... Come guida spirituale... I problemi delle famiglie... Via discorrendo... È chiaro che se non hai esperienza in questo campo... Sei sfavorito nella comprensione e nell'empatia... Dei problemi degli altri... Quindi insomma... Questo voleva aggiungere questa piccola cosa... Poi mi sembra che addirittura non è... Cioè... Secondo voi... Da cosa deriva questo... Adesso chiedo a te Carolina... Da cosa deriva questa grande poi avversione e paura... Perché l'oposessualità fa così paura... Perché i rapporti extramatrimoniali... Extraconiugali... Sono... Fanno così paura... Ma poi un prete che effettivamente... Per una volta... In un anno... In due anni... Una volta nella sua vita... Nella sua... Così... Cede alla tentazione della carne... Ma veramente è così... Bisogna... È così da imputare... Da... Da condannare... Da... Da colpevolizzare... Da penalizzare... Ma io... Sono convinta... Che non sia... Da colpevolizzare... Assolutamente... Anche perché... È... È un uomo... O una donna... Voglio dire... È... Già Manzoni... Ricordatevi cosa ha scritto... Nei professi sposi... Sì... Ma poi... Nella Bibbia stessa... Nella Bibbia stessa si parla... Di omosessualità più volte... Sì... Ma non solo di omosessualità... Ma addirittura... In alcuni... Eh... Libri... Del Vecchio Testamento... Si parla di queste cose... Non è che non se ne parla... È stata poi la Chiesa che ha fatto delle scelte precise... Perché... I Vangeli per esempio... Ha scelto certi Vangeli e non altri... Quindi... È stata la Chiesa che ha imposto certe regole... Certo... Perché... Per evitare delle situazioni... Allora... Voglio dire... Eh... Diverse... Di potere anche... E per acquisire più potere... Forse... Vuoi per evitare anche... Altre... Situazioni... Forse... Di... Di salute... Tra virgolette... Perché... Però... Nel mondo antico... L'omosessualità era considerata... Anzi... Un privilegio... Della gente colta... Della gente... Ed una certa elite intellettuale... Quindi... Non è vero... I più grandi uomini sono stati omosessuali... Allora... Io prima dicevo... L'omos ha impiegato tanto tempo... Per dichiarare l'omosessualità... Non più una malattia... Ma... La sessualità... È un... È un qualcosa... Che verte sul nostro privato... Quindi tu puoi essere... Etero... Omo... Eh... Ma... Comunque... Il tuo privato... Il privato di ognuno di noi... Le scelte... Sono scelte che facciamo noi... Le... Le si fanno in base... A quelle che sono le nostre tendenze... A quella che il nostro... È che la nostra educazione culturale... È quella che è la nostra... Ma perché questa omofobia... Questa sessosopia... Perché... Ma è una questione di controllo... Sì... Perché io... C'è una cosa... Adesso qui ritorniamo ancora...